Siamo qui con due dei protagonisti eccellenti di questo match, uno il nostro giocatore Michele Mattei, l'altro il signor Massese Annino, responsabile degli arbitri a livello provinciale. Allora, partiamo subito da Mattei. La partita vinta 80-69 contro Virtus.balmontone, è piaciuta la vostra palla canestro? Vi si è allenati bene? Si è visto in settimana il lavoro atletico? Ha funzionato? È stata una settimana dura, ci siamo allenati molto, abbiamo faticato e i risultati si sono visti. La partita è andata un po' all'inizio, siamo andati sopra, poi c'è stato un calo tecnico e mentale. Siamo riusciti a portare a casa questa vittoria comunque, è andata bene. Sicuramente un aspetto da migliorare, comunque oggi abbiamo espresso un ottimo gioco. Passiamo al nostro Massese, lei dal punto di vista dello spettacolo, come ha visto questa partita? Beh, una buona partita, ben giocata, su schemi abbastanza buoni, che hanno portato un effetto relativo sulla parte dei fondi e anche dell'altra squadra. Valmontone è una squadra che è ben impostata, ben relazionata nel gioco, ha due buoni giocatori, tre buoni giocatori che segnano con facilità e con precisione. Il fondi ha messo buona volontà prima cosa, ha avuto la forza di reagire quando è stato in difficoltà, però in questa partita, a differenza dell'altra, ha dimostrato più di avere uno schema di gioco più perfetto, più produttivo di quello delle altre volte che l'ho vista. Quindi ritengo che sia una vittoria meritata, giusta, abbastanza combattuta, ma in una partita molto leale, molto corretta, senza difficoltà e con un buon arbitrage, direi.